eccolo ce l'ho ce l'ho eccolo 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 bello bello direzione lago di bracciano direzione ultima pescata a luci della stagione stiamo andando nel lago di bracciano per fare una pescatina in barca abbiamo il nostro amico Ettore ha la barca speriamo bene non sarà facile scappottare perché non è mai facile con le luci ma speriamo bene ciao 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 che spettacolo ciao il mare non si vede una sega a parte che poi il gerk lo stima proprio attaccato perché se sta c'è va cattivo io non ho mai preso il gerk non c'ho mai pescato il gerk c'è c'ho poco no malato malato cazzo stavo fermo ho fatto DOOM c'è il taglietto quindi DOOM c'è il taglietto che si è messo tutto in bocca e ti hai aperto la bocca lo sai? si perché tu stavi fermo PORCA MA se hai messo in bocca poteva essere pure con lo stesso monto lo sai perché NO non mi dico si perché l'ancoretta non è entrata in contatto con la bocca hai aperto e l'ha fatto riuscire Mannaggia! Il lago di Cerk si può provare. Dove? Non lo devo far scendere, vero? Eccolo! Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Mamma mia! Con il Cerk! Ce l'hai? Ce l'hai? Ma che sogno! Eccolo! Ah, ottimo, ottimo! A posto! Wow! Con il Cerk! Il mio primo Luccio a Cerk! Chi lo ha detto che ci si sa? Aspetta! Il nostro muro che era un amore! Che gioia! E' piccolissimo, però è piccolissimo ma che sembra enorme! bellissimo! allora aspetta oh arrazzati che figata questa vedi pesca che ti mangia primo lancio schioppettata sulla canna primo pesce selvatico con questa canna io ce l'ho italicato è ibrido però ha molto italico ha molto sangue italico che bello guarda non si vede niente in mezzo a un mare luccio in un mare vulcanico ma tu capisci che hai piegato un luccio dentro un vulcano adesso? si si altro che l'aghi a pago qua ah si si capito? che diventa grosso 90 o un metro tranquillo che non lo mangia un altro luccio diventa lui al vertice della catena ma ancora lui non sta al vertice quelle pezzature lì ancora si sgarga grosso come niente capito? ma tu l'hai visto i video che pescano tipo il maschico esche così l'ho preso un altro l'ho preso un altro si è piccolissimo questo è d'acquario questo è d'acquario questo è d'acquario questo è proprio elica che carino che carino due facciamo la foto non vedete il piccoletto che carino che carino eh via ris due due Giacomo sta zitto eh così piccolo era parecchio quando ho vedevo il solaco perchè sai con questo gerchetto Westin piano piano vai 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 bello bello l'hai lavato fuori mettono lì mettono lì bravo già fermati il ciappolo della collotta come ho fatto lì no per la collotta lì tu vincialo bravo questo ha visto la morte è vero è vero è morsicchiato adesso piove eh già a me ne frega se piove magnano adesso sotto la pioggia ci divertiamo ancora di più poi in diretta l'ho visto eh fortuna che esiste i rucci piccoli non hai visto i rucci piccoli che se non c'era qui stavo sotto la pioggia a cappottare e a piangere non c'era non c'era dopo cresce e diventa luce non c'è eh l'ho visto proprio che è venuto qua e mi ha detto uam dai dai che scala che ha spalato questo era una quarantina forse era uguale eccolo noo slamato qui mi ha mangiato madonna era piccolino però gusta ma che è oh le trote le trote le trote le trote le trote eccolo guardalo mamma mia aspetta là la miseria attività alla faccia alla faccia dell'attività ecco eccolo noo hai visto ho visto la ragazza è pazzesco come mangiano i rucci belli no con i piccoli un bel modo per iniziare a pescare a pescare porca miseria che botta calato è già rimasto eccolo 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 ah no ecco bello mamma mia ah è ripeso grande mamma mia questo eccolo eccolo allora eh guardate la sciaccia è passato qua altro lucio terzo lucio terzo lucio un attacco un attacco formidabile oh ma se l'ha mufa da solo guarda eccolo ecco lo fa di più in passi ah ah sì bellissimo tre tre luci mai presi in una pescata è epico addirittura per me è epico a me è stata una cosa quella giornata ho fatto i sette belli un attacco un attacco un attacco è bello 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 madonna che botta sicuramente è questo pensa quelli più grossi madonna madonna attento 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 non si saprà mai questo vai sì questo è bello bello questo bello questo che stecca che ha tirato ok dopo tre lucetti arriva un luccio decennio questo tirava hai visto finalmente un bel luccio allora un bel luccio adesso lo misuriamo adesso lo misuriamo bello 70 70 i 70 i 3 73 bravo Ander grazie grande spettacolo pizza bianco lungo sono parte del vostro amamentario commerciale cioè ti dà proprio dipendenza questa pesca perché è dinamica perché sennò il luccio lo pesca così molto lento ma tu come la spie... oh c'è l'hai dietro c'è l'ho dietro c'è l'ho dietro si è fermato è andato dietro eccolo no ho slamato era lui? era bello era bello ma sulla pausa eh era grosso come quello che ho preso penso forse un po' più grosso eccolo ce l'ho ce l'hai? si dai piccolino vabbè oh cosa la faccio niente non lo devo piare ce l'ho sempre in pesce in più o dio piccolino aspetta un po' però so piguro l'ha mangiato appena lanciato come si è un mostrato eccolo eccolo si vieni quinto luccio e oggi eh è che se si ohengage vitalico vitalico del dio bello cazzo che spettacolo questo è italico proprio finalmente ok me l'ha tolto mi toglie il jerk vabbè io ne metto un altro vedi c'è la fine sta sotto invece l'uccio anche piccolo eccolo madonna sulla swing bait no ho slamato slamato era grosso sulla pausa ma l'ho ferrato che devo fare che stecca che è malato cazzo peccato giacomo che dici? mamma mia giacomo sta giù i dentro no 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 vabbè già che ne ho piatti 5 è tanto no no ecco ce l'hai? ce l'ho bello no non è bello però non è bello grande vai 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 guadino vai eeeh il più bello lo prende è grande allora aspetta grande a notte praticamente grande con la swing bait a che te credi a chicco a chicco cazzo lì ha la barca alluminata allora bello bel pezzo quant'è? 85 83 80 84 83 4 83 e mezzo è un bel pesce è un bel pesce è un bel pesce di peso vai vai con il rilascio del pesce più grosso a notte Ettore fa il pezzo la differenza di chi va a pesca per prenderli piccolini e si accontenta di quelli e di chi invece ormai è abituato solo ai grossi grande grandissimo sarò breve oggi è stata una pescata per me epica perché ho preso 5 luci che non prendo di solito in un anno Giacomo ne ha preso uno e Ettore ha preso il big del giorno anche se ne abbiamo slamati tanti però tutto sommato grazie a Ettore siamo riusciti a fare una pescata bellissima Ettore Marella seguitilo su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.